Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla conferenza stampa che si svolta oggi al comune di Gela in merito al processo civile che si è aperto al tribunale sulla vicenda Eni. La giunta comunale ha ribadito che chi sporca il nostro territorio è tenuto a pulirlo. Vediamo. La tutela del territorio e della sua gente è l'obiettivo a cui mira nel processo civile apertosi lo scorso 13 gennaio al tribunale di Gela l'amministrazione comunale. Questa mattina la sindaco domenico Mersenese ha illustrato la posizione del comune assieme all'assessore all'ambiente Simone Siciliano e dal componente della giunta con delega agli affari legali Fabrizio Morello. Noi facciamo gli interessi della collettività e esitare al decoro al nostro territorio è fondamentale. Noi abbiamo detto che chi sporca deve pulire, non si può andare lasciando lo sporco a casa nostra. Io sono convinto che vivere in un territorio pulito sicuramente si vive meglio, in un territorio che sia salubre per noi e per i nostri figli. Quindi è un atto che per noi è in continua, è in lineare, in sintonia con quello che abbiamo fatto sin dal primo giorno da quando ci siamo insediati. Fra le altre cose ci siamo pure preoccupati di tutelare le persone che hanno un'attività lavorativa a seguito di queste produzioni. Abbiamo chiesto quindi un fondo per poter garantire un reddito, considerando che molte volte lo Stato a livello centrale si è dimostrato di essere poco attento, di essere distratto. Abbiamo voluto sottolineare che c'è anche la necessità, se il giudice dovesse decidere di chiudere tutte le attività, di poter garantire nel transitorio un reddito per i lavoratori che dipendono dalle attività che sono state messe in discussione. L'abbiamo detto in campagna elettorale, adesso iniziano a derivare gli atti concreti, per cui chi ha sporcato e chi sporca o chi sporcherà in questa città dovrà avere la briga di pensare anche a Puliscio. Questo è il tema di fondo su cui in alcun modo non torniamo indietro. Intanto la prossima settimana al Ministero dello Sviluppo Economico il primo cittadino incontrerà i governi nazionale e regionale sull'accordo di programma. Tutti i territori italiani in cui ci sono state attività prevalenti, l'Irva Taranto, altre siderurgie a Piombino, le raffinerie a Gela, altre attività prevalenti che hanno rappresentato lo sviluppo economico nazionale, hanno visto la totale disattenzione del governo in un processo di riqualificazione e reindustriazione di questi territori. Tutti viviamo lo stesso problema, il problema del forte inquinamento e delle bonifiche mai avviate, quindi è chiaro che anche le istituzioni dovranno prendersi carico delle loro responsabilità e quindi la presenza del governo centrale in merito ad una esposizione chiara su quello che deve essere il futuro di questi territori e soprattutto di Gela. Gravissimo attentato intimidatorio, la scorsa notte a Gela, parliamo di cronaca nera, i gnoti hanno incendiato l'auto del consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra. La vettura, una BMW Turing, era in sosta in piazza Roma nei pressi dell'abitazione dell'aspirante politico Scerra e anche presidente della commissione consigliere bilancio. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha manifestato solidarietà al consigliere comunale. L'attacco alle istituzioni è un colpo infame alla democrazia. Ha detto, sono vicino a Scerra, giovane consigliere che lavora con entusiasmo per Gela. Sono sicuro che questi atti non fermeranno il cammino intrapreso dal consigliere ed auspico che i responsabili di questo attentato vengano individuati e condannati. Solidarietà è stata manifestata anche dal direttivo di destra in movimento. E adesso occupiamoci della proposta di destinare delle somme dell'ENI al Consorzio Universitario Nisseno. Tuona il Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese. Gela è una città poco attenzionata dalla regione e dallo Stato. Nonostante in alcuni campi usufruisca di leggi speciali, i benefici vanno ad altri territori senza requisiti. E così per la sanità, per le infrastrutture e per i servizi. Grande centro siciliano tenuto appositamente al guinzaio. Lo dice Filippo Franzone del Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'esito dell'incontro a Caltanissetta tra il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ed i segretari provinciali di Cigelle Cisle Will. Si è proposto infatti di destinare alcune somme dell'ENI per tentare di finanziare il Consorzio Universitario Nisseno. In sostanza, ENI a Gela inquina e a Caltanissetta dovrebbe destinare i soldi. Ed il Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese tuona. Ci chiedono di far fare dei master a Gela attraverso il Consorzio Universitario di Caltanissetta. Il protocollo di intesa siglato con Iani prevedeva la collaborazione con l'università. Con l'università vere. Noi non possiamo chiedere alla succursale di avere un'altra succursale a Gela. Sarebbe veramente ridicolo e qualitativamente non siamo nelle stesse condizioni di chiedere dei supporti all'Università di Catania, di Palermo, di Messina. Lo si può fare, ma lo si fa con vere università. Il protocollo di Gela serve per i Gelesi e serve per far riprendere Gela. Bello o brutto, contestato o meno che sia stato, contiene quella clausola. Quella clausola va operata esclusivamente nell'interesse collettivo dei Gelesi. Non si può finanziare il Consorzio Nisseno perché gli manca adesso un socio che è il libero Consorzio di Caltanissetta. E quindi si chiede a un ente che ha gestito, operata a Gela, di poter finanziare questo Consorzio. Per noi è giusto intraprendere una collaborazione con l'Università di Catania per avere dei corsi e dei master su Gela, da svolgersi a Gela. Questa è l'operazione corretta, anche alla luce del fatto che noi abbiamo scelto di passare con la città metropolitana di Catania e quindi i Gelesi vogliono aumentare le collaborazioni con i catanesi e ovviamente di unirle con il Nisseno. Non ha senso, dopo che una popolazione sia espressa per questa direzione, continuare a risuscitare il passato. Ma è un fatto soltanto campanilistico o c'è dell'altro? No, il fattore è che un Consorzio Universitario non può erogare al meglio dei corsi come potrebbe fare una vera Università, ma non solo. Noi chiediamo a Caltanissetta di erogare dei corsi su Gela. Ovviamente una parte dei soldi di questo protocollo rimane a Caltanissetta, un'altra parte andrà a Palermo perché Caltanissetta è agganciata all'Università di Palermo. Perché dobbiamo spendere il doppio quando possiamo accedere direttamente all'Università? E stasera torna, come ogni venerdì, agora il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra emittente, ideato e condotto da Franco Gallo. Tratterà, come sempre, i temi che riguardano Gela ed i gelesi. In particolare, nella puntata odierna si parlerà di Eni, del protocollo che non decolla, così come non decolla la tanto decantata riconversione green. Il tutto mentre lo stabilimento industriale gelese continua a spopolarsi di lavoratori costretti ad emigrare nella migliore ipotesi o a restare a spasso. Agora si occuperà pure dell'ultima polemica che è nata a seguito della notizia che con i soldi delle compensazioni dell'Eni si dovrà salvare il consorzio universitario di Caltanissetta. Appuntamento dunque a questa sera alle 21 sulla nostra emittente con una nuova ed interessante puntata di Agora. Con il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che mantiene nel Tribunale di Gela l'unico giudice che nella fase dibattimentale può trattare procedimenti penali che provengono dall'udienza preliminare, la città gelese conserva una garanzia per il diritto. Lo dice il sindaco Domenico Messinese commentando la revoca dell'applicazione extra distrettuale al Tribunale di Catania dell'unico giudice monocratico del Tribunale giulese disposto dallo stesso CSM lo scorso mese di dicembre. Un pericolo scongiurato, dice il primo cittadino, per un territorio di frontiera come il nostro e per centinaia di procedimenti penali in tema di ambiente e lavoro in attesa di giustizia. Lo Stato si è ricordato che Gela è una città di frontiera dove la presenza dello Stato è fondamentale. Questo fa onore al CSM che ha attenzionato le problematiche nel nostro territorio. Un Tribunale che rappresenta un presidio di legalità, un Tribunale con tantissime difficoltà di personale e questo ultimo rasterimento avrebbe ancora creato dei seri problemi, soprattutto compromesso anni di lavoro e di attività su processi importanti anche a livello ambientale e di tutela della salute pubblica. Quindi un plauso perché sicuramente un'analisi più attenta ha dimostrato che Gela forse deve essere più potenziata che invece di essere ridimensionata. Un passo importante grazie anche alle esperimenti fatte dal Presidente del Tribunale ma credo che è comunque un atto dovuto per una città che in questo periodo sta soffrendo parecchio. E adesso parliamo della protesta degli agricoltori in merito al rincaro del costo dell'acqua. Protesta degli imprenditori agricoli contro il rincaro dell'acqua del pagamento di dipendenze per conguagli si è svolta questa mattina nei locali del Consorzio di Bonifica di Gela. La tariffa oraria dell'acqua è stata aumentata da 15 a 22 euro e la quota fissa da 10 a 19 euro. Una situazione, dicono gli imprenditori, divenuta insostenibile che aggrava pesantemente il comparto mettendolo fuori dal mercato. La precarietà delle dighe e quindi l'impossibilità a garantire acqua sufficiente e di estendere il bacino di utenza che permetterebbe maggiori introiti deve convincere le autorità preposte a determinare nel territorio geolese il mantenimento dello status quo. Lo dice Salvatore Darma, commissario dell'UNSIC, Unione Nazionale Sindacale, imprenditori e coltivatori. Le cause evidentemente sono legate alla irresponsabilità di un governo regionale che ritiene che entro il 2020 tutti i costi del Consorzio e quindi anche del personale debbbero essere caricati sui Consorziati. Già la quota fissa è passata da 10 a 18 euro, mentre il costo orario è passato da 15 euro a 22 euro. Una situazione impossibile da sopportare da parte dell'agricoltore. Tra l'altro un tempo inglemente sta caratterizzando il nostro territorio dalla seccità. Ora occorre determinare quel coinvolgimento di tutta la categoria, i vicomlesi dipendenti, non solo i lavoratori e gli agricoltori, per una grande manifestazione, un incontro a Palermo perché il gelo non può morire. La Regione ha previsto un disimpegno nella contributo sugli emolumenti, quindi è giocoforza recuperare le entrate che prima provenivano dalla Regione da altri settori dell'organizzazione, oltre ovviamente a tutti i risparmi di spesa che quest'ente è stato in condizione di fare. La parrocchia San Sebastiano Martire, la Casa Francescana Sant'Antonio di Padova e l'associazione Dives in Misericordia, con il patrocinio del Comune di Gela in occasione del decimo anniversario della morte di Don Franco Cavallo, stanno organizzando degli eventi per ricordare il sacerdote morto primaturamente che tanto ha lavorato per i giovani nei suoi anni di docente di religione all'Ipsia di Gela e come parroco di San Sebastiano nel quartiere di Settefarine. Domani alle 18 presso la Casa Francescana di Manfria sarà proiettato un documento con il titolo Il Prete della Gioia realizzato da Gianni Virgataula. Seguirà la celebrazione eucaristica preseduta da Don Pasqualino di Dio. Domenica alle 10 presso la zona d'espansione nord del quartiere Cantina Sociale il Vescovo Monsignor Rosario Gisana ed il Sindaco Domenico Messinese inaugureranno le nuove strade intitolate a Monsignor Mario Sturzo, Vescovo di Piazza Medina, e a Don Franco Cavallo alle 11 presso la parrocchia San Sebastiano. Il Vescovo Gisana presiderà la celebrazione eucaristica animata dal coro Perfetta Letizia. Da domani al 24 gennaio presso il Palazzo Ducale è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo realizzata da Franco Pardo in collaborazione con Croce Attardi e sporranno gli artisti Gina Pardo e Pino Polara. La mostra patrocinata dal Comune potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno e questo è il tema dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano che prenderanno il via domani e si concluderanno mercoledì 20 gennaio presso la parrocchia di San Sebastiano Martire guidata da Don Filippo Salerno. Ogni giorno alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica in onore del Santo e la riflessione omiletica. Una scuola aperta al territorio, una scuola nella quale l'obiettivo principale è quello di stare insieme nel rispetto delle regole e apprendendo le nozioni basilari per essere degli uomini in futuro. Open Day nella scuola Enrico Solito di Gera diretta da Clizia Nobile. Una scuola, una piccola realtà dove lo ha ribadito lo stesso dirigente scolastico è nata una famiglia. Il nostro obiettivo è quello di fare conoscere l'Enrico Solito in vicinanza di quelle che saranno le iscrizioni per la scuola dell'invanzia e per la scuola primaria perché noi siamo un circolo didattico. Chiaramente siamo contenti, abbiamo avuto come negli anni passati una larga partecipazione dei genitori. Sono venuti in tanti. Questo significa che i genitori sono attenti. È un passo importante il momento dell'iscrizione. Sia per la scuola dell'invanzia perché il bambino quando si iscrive alla scuola dell'invanzia è il primo nucleo sociale che conosce rispetto alla famiglia. E quando si iscrive poi in seguito alla scuola primaria diciamo che invece è il primo passo di quello che sarà, di quello che diventerà, di quello che è il suo futuro lavorativo. La scuola Enrico Solito rappresenta un presidio costante per studenti e genitori. Noi cerchiamo sempre di lavorare sull'innovazione, sulla progettualità, sui laboratori. La nostra didattica è di tipo laboratoriale. Le nostre classi che sono fornite di LIM, i bambini hanno i tablet, sono diciamo al passo con i tempi perché la scuola non può essere distante di quella che è la realtà. Oggi tutti quanti hanno il telefonino, vanno su internet. Immaginate una scuola che ancora sa solo insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto con la matita e la penna. La scuola deve insegnare a fare tutto questo in modo più veloce. Si deve poter fruire di internet. Bisogna che i bambini apprendano in modo divertente, facile, veloce attraverso tutti gli strumenti innovativi che la scuola può dare. E' open day domani presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga durante il quale l'Istituto accoglierà quanti coloro si appresteranno ad effettuare la scelta per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per le iscrizioni all'anno scolastico 2016-2017. L'Istituto Comprensivo Verga presenta il programma didattico e pedagogico di intervento sul progetto di crescita di tutti gli alunni per l'anno scolastico, come dicevamo, 2016-2017. Domani prima giornata di open day per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado con l'accoglienza degli alunni accompagnati dai genitori. L'appuntamento è previsto alle 9. La giornata si pone quale momento di conoscenza dell'Istituto nonché di coinvolgimento attivo degli alunni ospiti in attività laboratoriali per condurli in un percorso consapevole di orientamento e di scelta della scuola secondaria di primo grado. L'utile ed opportuna conoscenza, dunque, verso una scelta libera e consapevole. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino a Gela per potersi registrare. Lo comunicano i padri agostiniani. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 oppure chiamare i numeri di telefono 0 933 911 892 345 58 80 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, Lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crucifisso Ragona. Domenica 17 gennaio prossimo alle 19 concerto del trio Antonella Callea, al flauto, Lucia Di Mora, al violino, Salvatore Gallio al pianoforte. Parliamo di teatro, salviamo il salvabile. La comedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'Associazione Demetra porteranno in scena domani alle 21 al Teatro Eschilo di Gela. La regia è affidata a Maurizio Nicastolo. Sentiamo. Sipario 21 e l'Associazione Demetra vanno in scena domani sera, lo ricordiamo ancora una volta, con Salviamo il salvabile. È quasi tutto pronto ma la notizia di oggi è una ed è importantissima. Siamo in sold out. Sì, sì, tutto pieno e sono veramente felicissimo anche di annunciare questa notizia alla città. Siamo di più di felici, ecco, straripandi di gioia. Il primo nostro spettacolo, abbiamo in sold out, veramente una notiziona. La città di Gela sa accogliere veramente il nuovo fermento culturale e lo fa abbracciando una nuova compagnia che si affaccia adesso nel panorama del teatro locale. Non solo abbracciandosi, ci sta facendo veramente sentire un calore, veramente che io sono allibito. Volevo ricordare che domani sera ci saranno delle chicche che non vi voglio anticipare. E non solo questo, voglio ricordare che presenterà la serata Alice Palumbo e siamo tutti in fervento. Siamo pronti, vi aspettiamo e volevo ricordare Fabiola e anche gli altri attori. Maria Giannone, Grazia Caruso, io li leggo perché sono emozionato. Oscar Minardi, Giovanni Siracusa, Felice Endernullo, volevo ricordare il trucco e parrucco di Anna Maria Basta, il rammentatore Pari Delicata, la fotografa di scena Maria Rita Cavallo. Ragazzi, sono felicissimo. Fabiola, tu lo vedrai domani. E' importante ricordare tutti. A volte l'emozione può giocare brutti scherzi, ma domani quando si andrà in scena si andrà concentrati e carichi. Carichi, l'emozione subito dopo due minuti di palco passerà. Vi aspetto chi è già prenotato. Ci vedremo domani sera perché sarà una bellissima serata. Ma chi non ha trovato posto non resterà bocca asciutta perché potrà contattarvi. E state già pensando ad una replica. Sì, sì, una replica perché tanti amici sono rimasti fuori, non hanno potuto acquistare il biglietto. E tra qualche giorno vi annunceremo la replica. E noi aspettiamo altre notizie. Intanto ci godiamo questo debutto domani sera alle ore 21 al Teatro Eschilo. Al Teatro Eschilo. Sabato a teatro. Vi aspettiamo con Salviamo e Salvabile. E spettacoli teatrali anche all'antidoto. Sentiamo Emanuele Giammusso. La compagnia di Tralantidoto porta in scena una bella rappresentazione. Appuntamento per mercoledì e giovedì prossimo all'antidoto di Mecchitella. Emanuele Giammusso. Hai detto bene. Mercoledì e giovedì porteremo in scena Don Ghisciotto e San Giopanza. Con il Don Ghisciotto, Guglielmo e il San Giopanza e il sottoscritto. È già un tema importantissimo. E perciò invitiamo la gente a venire, a partecipare. Il botteghino è già aperto. E poi gli appuntamenti in due giorni sono tre. E lo dobbiamo dire. Il 20 alle 21 e 30, il 21 alle 18 e 30 e alle 21 e 30. E avete la possibilità poi di replicare nella stessa giornata due spettacoli? È importantissimo. Il giovedì lo facciamo anche per... Non sono anziani. Diciamo i giovanotti un po' più grandi. Che magari la sera devono rientrare il primo per le cose che hanno. E allora gli diamo anche questa possibilità. Anche se sono pochi, però pochi ma buoni. Ma la gente risponde. Sì, 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 alla grande. Il 28 abbiamo avuto un canto di successo anche con la briscola. Ma comunque Don Ghiciotti e San Giopanza, e tu me lo insegni, non è una commedia solo per grandi, ma anche per bambini. E perciò portate pure i bambini che è importante. Questa sera però non c'è il cinema, c'è il teatro. Sì, stasera c'è il teatro. Io ho portato la locantina. Abbiamo le vedove allegre con una bravissima e bellissima Barbara Gallo. E inizia Epicicli. E un'altra rassegna teatrale, sempre nel nostro contesto, che è l'antidoto, che ospita anche altre rassegna teatrali. Cosa potrà riservarvi il 2016, dopo un 2015 costellato di successi? Ma dico che già si inizia la grande. Siamo stati a Messina, abbiamo avuto i successi nella nostra casa, nel nostro teatro. Sabato siamo a Campobello Delicata, mi dicono i colleghi di Campobello che già c'è il tutto esaurito. Come siamo esauriti noi, esauriamo pure i teatri. Perciò questo è anche un successo. Dove andiamo la gente risponde, anche fuori. Riprende l'esperienza dei gazebo informativi di FIAB Gela, sezione Nacrocicli, preseduta da Valentina Ferrigno. Sarà un'occasione per i cittadini per incontrare la FIAB sul territorio, per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana, della mobilità sostenibile e la salvaguardia ambientale in città a livello nazionale. Nell'occasione si potrà ritirare il calendario delle attività 2016 e quanti lo desiderano potranno iscriversi o rinnovare il tesseramento FIAB Gela. L'appuntamento è previsto per domenica prossima dalle 11 alle 12.30 presso l'area pedonale dei Muretti di Macchitella. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie.